I had a way then to sing it all on my own I had a heart dance Ciao a tutti e benvenuti da Digifair 98 in questo nuovissimo video della categoria Viruspedia categoria dell'estate con Digifair 98 in questa categoria parleremo in ogni episodio e in ogni video di un particolare tipo di virus e descriveremo che cos'è, dove si trovano, gli effetti che ha quando sono in un computer e i modi per rimuoverlo allora in questo primo episodio inaugureremo parlando del bugle allora che cos'è il bugle? il bugle è un virus che si incontra molto spesso nei siti in cui promettono di scaricarvi i programmi che diciamo vi rimette in sé sul vostro computer dandovi quello sprint sul processore, tutte queste cose qua ma si possono trovare anche quando si trovano programmi per esempio un generatore di codici di videogiochi che non esistono per esempio un generatore di codici Steam dove purtroppo ci sono ci sono, ci ho passato diversi guai per diverso tempo perché ho beccato anche io questo bugle e comunque niente allora il livello di pericolosità questo virus da 1 a 5 il livello di pericolosità 3 3 perché il bugle è come un virus che permette di fare entrare altri virus molto più pericolosi di questo è come una porta come permette di aprire le porte per far entrare altri virus che poi è molto più difficile rimuoverli allora innanzitutto come capite che avete preso un bugle allora innanzitutto mettete caso che scaricate un programma come un generatore di codici dove ci sono fasulo dove ci sono caduto io aprite il programma cioè scaricate il programma che occupa anche pochi mega vi si aprirà una cartella con un file eseguibile e diversi file leggimi che comunque o sono vuoti oppure sono non c'è scritto c'è scritto tutta roba inutile appena si aprirete l'eseguibile mettiamo caso dove c'è il bugle vi accorgerete che l'eseguibile sparirà e appena sparito cioè non succede niente per esempio il computer funziona funziona normalmente però gli effetti collaterali lo noterete dopo qualche giorno meglio che prima ve ne accorgete meglio è allora che cosa fa questo virus uno blocca le blocca qualsiasi programma che si occupa della sicurezza del computer per esempio avast antivirus avira avg e anche windows defender e anche il centro sicurezza pc e in molti casi windows firewall che è molto importante quindi tutti i programmi che si occupano della sicurezza del computer vengono disattivati e vengono disattivati o corrotti allora i rimedi ci sono diversi rimedi sì allora prima di passare ai rimedi però vi dico subito come non prendere questo bug innanzitutto scaricare programmi da siti con certificati di sicurezza quindi siti certificati dove probabilmente c'è scritto anche che tutti i loro file che contengono sono controllati da un antivirus perché il bug nella maggior parte degli antivirus non viene individuato cioè ve lo accorgerete soltanto quando lo aprite che vengono disattivati tutti questi programmi nel peggior dell'ipotesi questo bug colpirà anche non solo la parte software ma anche la parte hardware la parte hardware soprattutto o l'hard disk o nella maggior parte dei casi la scheda video e se la scheda video viene corrotta passerete dei guai seri perché questo rimedio che vi dirò non funziona proprio tanto per l'hardware più per il software per windows allora innanzitutto come cercare di risolvere il problema allora nel 50% di possibilità allora utilizzare avviare windows in modalità provisoria per chi non lo sapesse vi faccio subito vedere come si fa basta che andate su esegui che adesso non mi si vuole aprire ok esegui si mi vuole apparire comunque esegui digitfig e perché sparisce esegui guarda ce la puoi fare ogni volta l'unico problema di questo ecco ho fatto esegui e digitate ms config ok aspettate la schermata poi andate su opzioni di avvio e selezionate opzioni di avvio modalità provvisoria e minima va bene anche poi mettete applica e riavviate il computer in questo modo si riavvierà in modalità provvisoria poi per esempio anch'io questo ve lo faccio vedere più tardi allora riavviando in modalità provvisoria potete provare ad utilizzare l'antivirus perché solo nel 50% dei casi però funziona in modalità provvisoria nel mio caso che è l'altro 50% la modalità provvisoria non è servita a niente allora come si può fare io ci ho messo molto tempo per cercare di togliere questo bug e non ci sono riuscito completamente tra virgolette l'altro metodo è utilizzare un antivirus online per esempio dovrebbe essere avira online antivirus oppure dovrei avere qui qualcosa se vuole venire qui o asset node 32 si dovrebbe essere asset node 32 online perché gli antivirus che avvierete online via web diciamo che il bug come se non lo riconosce questo virus quindi potete effettuare la scansione dal web di tutto il vostro sistema certo fate attenzione anche dove effettuate la scansione effettuatela da siti attendibili possibilmente più attendibili impossibili per esempio asset avvg eccetera eccetera qui dove appena avrà finito vi troverà il virus perché a me è successo me l'ha trovato ho trovato anche più di uno poi farete l'eliminazione del virus eccetera eccetera e voi pensate sia finito il virus non c'è più no perché i file sono rimasti corrotti una volta effettuata una scansione dovre scaricherete scaricatere scaricatere vi dovete scaricare bugle restore 1.6 strano anche la versione per 1.6 basterà scaricate questo programma ve lo metterò in descrizione se riesco a trovarlo vi apparirà questa piccola schermata che vi dice anche un piccolo riassunto su cosa è un bugle molto insidioso successivamente basta che cliccate su avvia il ripristino e la maggior parte dei file corrotti si ripristinerà allora i file i programmi che vengono corretti di più sono windows media player perché aprivo media player e questa schermata ci metteva mezz'ora ogni volta che andava avanti mezz'ora per caricare la canzone successiva poi vabbè gli antivirus disattivati completamente quindi ora sono riuscito a riutilizzare Avast anche se l'ho disattivato perché la cpu non so perché va lentissimo cioè sovraccaricato non lo so adesso però purtroppo non tutti i programmi vengono ripristinati per esempio vi faccio vedere subito andando al pannello di controllo pannello di controllo è su windows defender che è l'antivirus principale di windows ecco qui una volta quando io purtroppo questo bugle vi ripeto l'ho beccato è aprendo windows defender appare questo avviso impossibile trovare il file verificare che il nome del file sia corretto quindi riprovare questo significa che è corrotto ho usato anche bugle restore però comunque windows defender per far si che funzioni devo effettuare un ripristino del sistema operativo però bugle restore comunque diciamo la maggior parte dei programmi funziona è comunque riassunto scaricate programmi da siti attendibili con certificati di sicurezza effettuate una scansione via web o usate la modalità provvisoria per eliminare la parte grossa e alla fine utilizzate bugle restore 1.6 oppure versioni successive per ripristinare tutti i file corrotti spero vi sia stato utile questo video un po' più lungo del solito 12x98 è tutto ci vediamo al prossimo video ciao